Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, siamo arrivati ormai alle porte della prima weekend league di fc25 e so che magari molti di voi ancora non hanno bene un'idea ben precisa di squadretta da andare a fare, oggi quindi vi vado a proporre degli squad builder che secondo me possono tornare utili e soprattutto hanno una partenza un po' alla portata di tutti ma poi vi dico anche come magari andare ad aggiungere qualche chicchetta se avete budget un po' più alti. Partiamo dalla prima squadra che vi spoilero sarà una serie A schierata in campo con il 4334 che trovate sul canale e con qualche accorgimento questo può diventare tranquillamente anche un 451 uscito ieri che è un modulo super solido ma senza perdere troppo tempo andiamo a vedere i giocatori scelti. In porta ho deciso di schierare Mike Mignan, se avete budget per il portiere sfruttiamolo perché parliamo di un portiere di assoluto rendimento, 1,91m di altezza e in più anche il playstyle plus della saracinesca che permette di deviare i tiri lontano da zone pericolose e dunque evitare quei tapin fastidiosissimi a porta vuota. Andiamo poi a vedere la linea difensiva A4, il primo giocatore che troviamo è Danfris, 1,88m di terzino, molto fisico che magari qualcuno di voi ha anche voluto e a maggior ragione ve lo straconsiglio, molto efficace in fase difensiva, un po' meno in fase offensiva però quel 89 di forza e quel 83 di aggressività si sentono veramente veramente tanto. Per quanto riguarda i stili di gioco abbiamo la batteriera a zetto argento e il ruolo del terzino di spinta plus, qualora lo vogliate giocare un po' più offensivo ma ve lo sconsiglio perché lui è un po' pesantino palla al piede. Linea di difensori centrali ovviamente A2 composta da Alessandro Bastoni, 1,90m, difensore molto forte, molto automatico e in più il playstyle plus dell'intercetto che dà una gran mano ma anche e soprattutto procione delle due e lancio lungo e driven pass per uscire da situazioni spigolose visto che quest'anno impostare dal basso è veramente molto complicato. Ruoli plus dello stopper e plus plus del regista difensivo anche se io al momento i difensori li sto provando con difensore poi vi aggiornerò. As la sua sinistra troviamo Bremer, anche per lui una carta molto molto forte, 1,87m, anche lui molto automatico, stile di gioco bianco del blocco che quindi completa il procione di bastoni e qualcuno di voi già so che magari si starà chiedendo come mai in questa difesa non c'è Tomori. Ebbene Tomori non c'è perché al momento costa un po' troppo per i miei gusti e in termini di gameplay secondo me rispetto a questi due è meno incisivo ed è poco automatico quindi ho deciso di optare su una coppia un po' più solida. A sinistra invece troviamo Spinazzola, terzino ormai che abbiamo imparato a conoscere, super economico, il classico starter, veloce 4-4, ha un discreto passaggio corto, magari pecca un po' in resistenza e quindi qui poi nel caso vi dovete andare a tenere una opzione di cambio perché altrimenti a una certa non vi difende più perché non corre il buon Spinazzola. Andiamo a centrocampo e a centrocampo troviamo la coppia composta da Loftus-Cheek e Barella. Loftus-Cheek, giocatore molto completo, è un 1,91-4-4, magari tanti di voi lo hanno anche voluto, può farvi il CEC ma ve lo sconsiglio perché è un po' pesantino. Ottimi passaggi, delle buone statistiche difensive alla fine se vogliamo, una buona forza, una discreta aggressività, quello che ci importa però è il suo rendimento in questo caso da centrocampista di contenimento nonostante non abbia il plus perché essendo un giocatore molto fisico e molto tecnico vi fa perfettamente quel ruolo lì. E vi dicevo alla sua sinistra invece troviamo Nicolino Barella, giocatore anche questo di assoluto rispetto, quest'anno l'hanno fatto veramente forte, 1,72-3 skill e 4 debole, può fare il CC e il CDC, rapido, dotato di gran passaggi, un discreto tiro, super agile palla al piede e anche un'ottima aggressività. Batteria plus per lui, benissimo il playstyle, abbiamo il drive in bianco, l'intercetto, il procione e la scivolata e poi abbiamo proprio il centrocampista di contenimento plus, anche per lui è la mezzala plus plus, che però ad oggi è uno dei ruoli che meno mi piace perché il giocatore si allarga troppo lasciando buchi al centro. Trequartista, Paolino Di Bala, gli hanno messo la quinta skill quest'anno, 3 di piede debole, Paolino giocatore anche in questo caso molto molto forte, un giocatore che è brevilineo quindi risulta agile, palla al piede, ha un ottimo tiro a giro, peccato ovviamente il 3 di debole che lo rende un po' monopiede, però in questo caso abbiamo il tiro a giro, come vi dicevo, bianco, il filtrante bianco, il tecnico, la trivela e poi il primo controllo plus che serve a poco, però è un giocatore stracompleto e ha l'attaccante ombra plus plus che è esattamente quello che a noi serve in questo ruolo qui. Quindi Di Bala per me deve essere il nostro trequartista. Così come a destra io vi vado a straconsigliare Pulisic che il rapporto qualità prezzo è uno dei migliori, ha 4 skill e 5 di debole, giocatore brevilineo con un ottimo speed boost, finalizza discretamente bene, un buon passaggio corto, stra agile, palla al piede e in più ha anche il tiro a giro bianco. A noi interessa l'attaccante interno come plus, che è esattamente il ruolo che gli andiamo ad applicare nel 4 di 3, giocatore questo di assoluto rispetto. Così come da punta io vi straconsiglio di portarvi a casa questo Marcus Turam, anche solo magari da super sub perché raga ha uno speed boost incredibile, è un metro e 92 quindi regge anche di fisico, finalizza molto bene, vi dicevo il 90 di forza. Palla al piede, devo dire, si muove anche discretamente bene visto l'88 di reattività e l'81 di agilità, un giocatore che poi ha anche il razzetto e la batteria bianca nonché l'aereal per completare il pacchetto di playstyle e come ruolo l'attaccante avanzato plus, che è esattamente quello che ci serve. Andiamo a concludere questa squadra con Quiccia, Kvaraskelia, nella sua versione IF, 5 skill e 5 piede debole, ovviamente potete prendere anche la carta base se non avete i crediti a sufficienza, giocatore stack completo, veloce, si speed boosta discretamente bene, buoni passaggi, agile palla al piede, pecca un pochino in resistenza 78, però ha degli ottimi playstyle, il tiro a giro, il filtrante, il tecnico, il trickster per la skill della finta di tiro molto forte, la trivela, e poi quello che ci importa è che ha l'attaccante interno plus plus, che a sinistra è esattamente il ruolo che ci serve. Quindi questa è la mia proposta di serie A ragazzi, una serie A che comunque è di una fascia intermedia, qualora magari non abbiate i soldi per comprare tutti, io vi dico di focalizzarvi innanzitutto su attacco e su difesa, poi a centrocampo magari si possa andare a sacrificare Barella e mettere un Reinders ad esempio, così come si può fare anche il sacrificio del portiere, se ne mette uno un po' più basic e si tiene uno solo tra bastoni e Bremer andando a mettere un difensore un po' più economico al loro posto. Però questa è una squadra che comunque secondo me è arrivati quasi a una decina di giorni di gioco perché aveva la ultimate e quasi una settimana per la standard e vi riuscite a fare tranquillamente. Altro giro, altra corsa, adesso ci andiamo a vedere invece una bella Premier League, sempre vi spoilerò la squadra. E partiamo dal portiere, come prima, portiere che stavolta è Jordan Pickford, un portiere che è abbastanza affidabile, il classico buggato di inizio game nonostante sia un metro e 85, a me questo è sempre piaciuto, anche perché quest'anno c'è il playstyle della parata da coi piedi, che tutti quei tiri ad incrociare diciamo che lui riesce sempre a metterci una pezza, quindi Pickford fa al caso nostro. Linea difensiva composta, a destra da Diogo Dalot, un terzino molto completo, un metro e 83, 4-4, può giocare sia a sinistra che a destra, lo potevate evolvere, quindi una bellissima carta. E in più c'ha il plus del tornante sia a sinistra che a destra, quindi giocatore che per me potete assolutamente andare a schierare. Linea difensiva a due composta da Guardioli e Akanji, coppia del City, non altri giocatori, non Gomez, quelli lì eccetera, perché per me loro due sono basi, non dovete andare a fare evoluzioni né niente, e vi portate a casa due giocatori veramente forti. Guardioli ha il blocco plus, Akanji pur non avendo, vi giuro, playstyle neanche bianchi, non ce ne ha manco mezzo, non so per quale motivo è una delle carte più rotte che mi ritrovo contro, quindi per me questa coppia difensiva è molto molto solida. A sinistra, come non mettere Udoge, che per me è uno dei terzini al momento più performanti perché velocissimo e fisico, è dotato di un buon passaggio, di una buona aggressività, resistenza, insomma, un giocatore che messo lì fa perfettamente la sua figura. A centrocampo andiamo a schierare due giocatori complementari e sto parlando di Joe Ellington Evoluto e di Bruno Fernandes. Bruno fa un po' la parte della Guiarro che avete visto andata estinta perché si trova praticamente in tutte le squadre dei pro, un giocatore completissimo, praticamente un metronomo del centrocampo che con questo lancio lungo plus riesce sempre a servire in profondità i nostri compagni. Lo giocherei in questo caso rispetto a Joe Ellington con Regista che ha plus plus ed è perfetto, mentre all'altra parte Joe Ellington è centrocampista molto più di contenimento che giochiamo proprio con centrocampista di contenimento pur non avendo il ruolo plus, ma poco ci importa. Trequartista, una scelta un po' low budget che è quella di Nkunku, 5 skill e 3 di debole, un giocatore che ha un buon tiro, un buon passaggio, un buon controllo palla, pecca un po' in quella che è la stamina, però ha dei discreti playstyle, quindi onestamente io ho il buon Nkunku, mezzo che ve lo consiglio, c'ha pure attaccante Ombra Plus che per giocarlo lì fa esattamente al caso nostro. Attaccante a destra ho voluto un po' alzare il target, ovvero ho messo Phil Foden perché è un giocatore che speed boost in maniera clamorosa, può fare diversi ruoli, magari potete mettere anche lui trequartista e mettere una da motorei baggatissimo qui a destra se volete e non preferite Nkunku perché non skillate. Giocatore che ha un tiro clamoroso, passaggi clamorosi, stra agile e in più in questo caso c'ha l'attaccante interno plus plus che lì a destra è esattamente quello che ci serve. La prima punta è Isaac, 4 skill e 5 piede debole, giocatore sta completo, 1,92m di Cristiano che speed boost incredibilmente, magari non sarà un fenomeno nello girarsi palla al piede ma chiaramente parliamo di un giocatore notato di una notevole stazza fisica, quindi ci sta, però vi assicuro che questo qua vi dà delle belle soddisfazioni. Nel tiro giro a bianco c'è il rapido, c'ha l'attaccante avanzato che è esattamente quello che ci serve per cui il buon Isaac secondo me fa al caso nostro. Così come al caso nostro a sinistra ci mettiamo Werner, un giocatore che è evoluto al momento, è veramente straforte soprattutto con il power shot plus di quell'evoluzione che tira praticamente delle mine clamorose. Questo è giocatore che per me con uno speed boost così e questo overall vi dovete tenere anche banalmente da super sub nel club, poi ovviamente finalizza bene, ha il rapido e il razzetto come ruoli all'attaccante interno che ci torna comodo. Se lo volete giocare punta, sempre attaccante avanzato e non falso 9 perché non serve a niente su Werner, però giocatore questo che per me assolutamente ha senso inserire e anche in questo caso siamo fatti una bella Premier League completa e in questo momento io se avete dei budget non eccessivamente alti vi sconsiglio di andare ad ibridare perché è più facile fare macelli piuttosto che portarsi a casa delle cose positive. Se proprio dovete fare un qualcosa del genere ibrido io vi consiglio piuttosto di andare a farlo quando avete tanti crediti e ci potete mettere dentro magari il top tipo Neymar eccetera che già vi danno una grossa mano. Ragazzoni che dirvi per questo video è tutto, fatemi sapere come al solito nei commenti quali saranno le vostre squadre per la VL. Io come al solito vi ricordo poi che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, non sono il vostro Iberoski e a presto, ciao! Ciao!